Ciao a tutti ragazzi, allora, oggi sono stata da Flying Tiger e niente, per fare un video un po' diverso dal solito ho deciso di farvi vedere quello che mi sono comprata mettiamo via il sacchetto, infatti ho già tirato fuori tutta la roba per non dover tutte le volte rumeshare il sacchetto che poi si sente un casino, la madonna ragazzi, iniziamo subito, ci sono una marea di cose pucciose, veramente inutili ma pucciose cominciamo subito, questo ragazzi, questo i maledetti ve lo mettono proprio a fianco alle casse, costava tipo 3 euro che tu sei già lì e lo vedi e non puoi non comprarlo ragazzi ora mi dispiace che ho le luci puntate e non si vede bene il colore però è un'alpaca tutto rosa vabbè la qualità non è fantastica perché tipo perde pelucchi, cioè basta che fai così e perde pelucchi però è veramente troppo carino ragazzi, guardatelo, guardate com'è puccioso, troppo carino andiamo avanti, sempre a tema alpaca, è un'alpaca, che bestia è? peluche, non è scritto comunque andiamo avanti due penne, queste costavano mi sembra 2 euro la coppia, no 1 euro la coppia, quindi 50 centesimi a penna la particolarità di queste due pennine ragazzi è che le orecchie si tirano giù orecchie si tira giù, orecchie si tira giù e ogni orecchia ha una penna di un colore diverso quindi questa tipo è blu e nera, quest'altra è rossa e nera tra l'altro ragazzi, vediamo se ho un fogliettino scrivono anche bene abbiamo quella blu scrivono anche bene perché per essere insomma una penna da 50 centesimi ha veramente un bel tratto andiamo avanti, sempre da usare con le pennine mi sono presa guarda che meraviglia una quadernina, un'agendina con oh che brutta cosa, cioè mi ci hanno attaccato questa etichetta immonda che a toglierla ci vorrò penso ok perfetto, va bene, non viene via diventerò scema a toglierla quadernino piccino piccino a righe non so bene per cosa lo userò però era troppo carino, dovevo fare la combo la combo con la pennina con lama quindi me lo sono preso andiamo avanti ragazzi, sempre cose pucciose, pucciosissime questo non mi ricordo assolutamente quanto l'ho preso quanto ho speso però è troppo carino ragazzi, guardate I love chocolate questo è un temperino e c'è praticamente la mini matitina aspettate ve lo apro così ve lo faccio vedere spacchiamo tutto con cattiveria guardate che carina, c'è la mini matita che diventa praticamente la cannuccetta guardate ve lo voglio far vedere dritta guardate come carino assolutamente inutile, ripeto però è terribilmente carino andiamo avanti ragazzi allora mi sono comprata per le mie creazioni in fimo o comunque diciamo insomma mi sembravano molto carini questi due rotolini di scotch guardate sono due rotolini di scotch glitterati colore fantastico uno rosa e uno azzurrino questi costavano mi sembra un euro l'uno non so bene che cosa ci farò però appunto penso che per le mie creazioni sicuramente in qualche modo li utilizzo ok allora prossimo oggetto ragazzi e qui mi vergogno come un ladro per averlo comprato perché è tipo una cosa da bambini di tre anni però sono una debosciata quindi mi sono comprata ragazzi il kit di scavagio dinosauri cioè il piccolo excavation kit allora qua dice che ogni set contiene un dinosauro tra i sei della collezione non lo so ragazzi sono sincera mi sembrava una cosa rilassante da fare mi sembrava rilassante poi vabbè o volevo farvi vedere un po' di cose particolari quindi sono sincera l'ho preso anche per farvelo vedere insomma perché mi sembrava una cosina curiosa comunque all'interno apriamolo all'interno c'è il nostro panettino il nostro panettino diciamo da da rompere c'è uno scalpellino di legno eccolo qua e c'è un pennellino di qualità assolutamente infima cioè tipo le setole se le sbattete contro la mano vi spaccate vi fate le stimmate e sono tipo tre peli messi in croce penso di boh non so di che bestia comunque terribile veramente ragazzi cioè io ne ho visti di pennelli che fanno schifo ma questo è veramente osceno va bene comunque come giochino penso che sia divertente andiamo avanti andiamo avanti ragazzi allora questo non l'ho comprato da flying tiger ma era troppo bello tipo l'avevo già visto e non l'avevo comprato mi ero pentita come un cane ragazzi guardate che meraviglia questo è l'astucciolo con i coniglietti sopra cioè guardate cosa non è ora mi dispiace che ovviamente non lo potete vedere bene però è tipo cangiante bellissimo ragazzi non so cosa ci farò questo l'ho pagato allora non l'ho preso da flying tiger ma l'ho preso da hmn e l'ho pagato tipo 6 euro e 90 qui c'è il prezzo 6 euro e 99 però assolutamente ragazzi 6 euro e 99 ben spesi molto molto carino andiamo avanti andiamo avanti cosa mi devo ancora far vedere ah questo qua non me lo sono comprato io cosa se l'ha comprato mia sorella però ve lo faccio vedere ugualmente eccola qua allora queste sono praticamente delle perle di argilla con glitter praticamente penso che siano tipo perle da modellare eccole qua allora praticamente voi lo toccate è una cosa disgustosa ragazzi non so se riuscite a sentire fa proprio squish cioè una cosa oscena sembra di tra l'altro è anche come lo toccate sembra appiccicaticcio è una cosa disgustosa però bella cioè non so bene come è un po' come se fossero delle uova di pesce rosso magico miste a colla pritt ammorbidita con acqua penso veramente di non riuscire a descrivervele meglio però diciamo potete anche tira oh madonna è durissima sta cosa tra l'altro è guardate fa schifissimo però devo dire che non sporca le mani pensavo infatti che fosse una cosa schifosissima e in realtà è anche abbastanza divertente da usare diciamo è una sorta di è simile al fimo alla fine molto carina puzza ragazzi la puzza è quella della pritt penso vabbè comunque anche questo non so quanto l'abbia pagato mia sorella però devo dire che secondo me è molto carino ve lo faccio vedere caso mai passaste da da flying tiger andiamo avanti questa è un'altra cosa molto carina guardate è una mini agendina a forma di biscottino guardate ci sono un sacco di fogli anche questa assolutamente inutile però molto carina guardate fronte retro è di gomma quindi è è molliccio è morbidoso bello dai ci piace mi ho fatto vedere tutto no ultimissima cosa ragazzi eccoci qua allora di solito quando vado da flying tiger compro dei biscottini che però oggi non c'erano dei biscottini tipo col caramello buonissimi così oggi ho deciso di provare sta cosa queste tipo costavano 2 euro quindi è abbastanza caro per essere delle patatine alla fine e sono delle vediamo sono delle chips di ingredienti carote pastinaca che non so nemmeno che bello pensavo fosse una bestia io la pastinaca comunque pastinaca barbabietola olio di semi di girasole e sale li assaggiamo ragazzi ok l'aspetto è orrendo ragazzi ve le faccio vedere sembrano tutte sbruciacchiate sono tipo così questo è l'aspetto guardate sembrano tipo patatine sbruciacchiate ora le assaggiamo vediamo come sono ok questa è una carota allora quella rossa è buonissima la carota non è niente di che ma è bella ci sta ragazzi quelle rosse sono buonissime ci siano le barbabietole bene ragazzi allora ho dei pezzettini di barbabietole in bocca schifosissimo tipo non si tolgono sembra che sono tutti i denti cariati comunque allora fatemi sapere ragazzi qual è l'oggettino che vi è piaciuto di più e quello che magari non vi è piaciuto lasciatemi un commento qua sotto e fatemi soprattutto ragazzi anche sapere se questo tipo di video vi può piacere perché come state vedendo sto sperimentando qualcosina di nuovo di diverso nel canale oltre ai gameplay che porto di solito e appunto ho bisogno di questo vostro feedback per sapere se questa può essere una cosa che vi interessa oppure no quindi mi raccomando lasciatemi anche per questo un commento sempre sempre i pozzetti di barbapientola in bocca non le faccio più madonna cioè la gente fa i video assaggio le vedi tutte carine io faccio un video assaggio ho mangiato una patatina sto ruminando da 40 minuti comunque va bene ragazzi da Rowan è tutto arrivederci al prossimo video ciao ciao ciao